Proviamo a fare qualcosa per Halloween con queste lapegnos. Li tagliamo tutti a metà e puliamo l'interno. Dopo averli salati, li riempiamo con del formaggio spalmabile. Devo dirvi la verità, sono già buoni così. Ma noi prendiamo anche la pasta sfoglia e facciamo delle strisce. Posizioniamo due capperi per ciascun peperoncino. E mummifichiamoli con la pasta sfoglia. Li mettiamo in una placca rivestita da carta da forno e li facciamo cuocere a 180 gradi per circa 20 minuti. Ed ecco qua le nostre piccole mummie per Halloween.